L'inaugurazione a Villa Caprile, lo svolgimento a Villa Catani-Stewart. Saranno queste le due location per i tre giorni di Pesaro Wine Festival, che tornerà ad ospitare centinaia di appassionati di vino da venerdì 13 a domenica 15 maggio. L'evento vinicolo, arrivato alla sua quinta edizione, è stato organizzato dall'Associazione Pesaro Vino Cultura, godendo anche per quest'anno del patrocinio del Comune di Pesaro. Quest'anno, quindi il pre-festival di venerdì 13, è un'idea che abbiamo avuto di organizzare all'interno della scuola agraria, all'Istituto Cecchi qua di Pesaro, un seminario didattico con tre storici produttori del vino artigianale naturale che verranno qua a Pesaro invitati da noi, ospitati da noi, proprio per organizzare una tavola rotonda anche con qualche docente, con i migliori alunni della scuola agraria e tratteremo l'argomento dell'artigianalità del vino, l'esperienza di oggi per guardare al domani. I giorni di sabato e di domenica sono i due giorni appunto dedicati alle degustazioni, alla fiera, quindi anche il privato, il cittadino, il singolo avventore potrà acquistare, volendo anche una bottiglia all'interno dell'area di fiera. Siamo arrivati intorno alle 45, credo 50 aziende, adesso stiamo chiudendo proprio i numeri in questi giorni. Ci saranno presenti anche quattro realtà del food che si porteranno prodotti di olive, formaggi, ostriche, salumi e poi ci sarà come sempre a coronare la parte food il furgoncino con Carlo Betti all'esterno dell'area di fiera. Abbiamo organizzato anche una parte musicale alla chiusura della fiera, quindi intorno alle 20-20.30 con Gio Castellani e Daniele Mazzucchelli in quartetto e ci sarà la premiazione dell'amico Paolo Angeletti, che è il premio che è nato con il nostro festival e verrà dato dalla giuria popolare, tutti voteranno il vino che hanno preferito e noi premieremo le prime tre aziende più votate. Nella giornata di domenica, quindi nella chiusura del festival, assegneremo il premio dedicato a Luca Rossini che è il nostro presidente che purtroppo è venuto a mancare prematuramente e sostituito oggi degnamente dall'amico Maurizio Bartoli ma che noi vogliamo sempre ricordare perché Luca è stato uno dei grandi fondatori di questa manifestazione e dell'associazione Pesero Vino Cultura.